900 persone, su prenotazione ovviamente perché non possiamo permetterci, la legge non ce lo consente, assembramenti a giro. Dispiace non poter neanche quest'anno replicare quello che è il corteggio, figuratevi lo dico da sindaco perché è sempre una bellissima emozione e lo dico con dispiacere da cittadino. Però l'abbiamo aspettato fra l'altro anche molto, abbiamo provato a portare proprio al limite il momento organizzativo, però la legge in questo momento non ci ha autorizzato sembramenti, quindi non potremo fare il percorso lungo le strade, faremo però rispetto all'anno scorso la novità, la possibilità di fare entrare le persone in piazza, ovviamente ci vorrà la prenotazione, ci vorrà il green pass, ci vorrà tutto quello che è per un pubblico spettacolo, ci saranno in piazza sicuramente, sfileranno alcune delle delegazioni storiche, quelle soprattutto più vicine a noi, che appunto aglieteranno e onoreranno il giorno dell'8 di settembre e poi vediamo fin dove ci si potrà spingere appunto con l'organizzazione, sicuramente qualcosa che verrà fatto in piazza, vedremo quello che sarà, un po' sulla scena di quello che è stato l'anno scorso, quest'anno però c'è appunto il pubblico e questo noi comunque lo consideriamo già un primo passo avanti.